Dove saranno? Per Portofino, con una vista di paraggi meravigliosa, non trovavi la strada? Allora, guarda che acqua. Quindi lecci, pini, carubi e cipressi. Non mi veniva cipressi. Bisogna baciarsi. E baciatevi. Baciatevi i baci. Ma a caso? Cioè devi prendere qualcuno a caso? Io ti bacio. No, no, neanche io. No, no, no. Allora. Ho migliorato. 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 Non c'è nessun esempio, non c'è nessun esempio. Non c'è nessun esempio. Non c'è nessun esempio, 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 non c'è nessun esempio. 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 Grazie a tutti. Uginetu. A Portofino ci siamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.